Il depuratore non c'era ancora, ma la tariffa sì. Ecco perché Publiacqua rimborserà tutti i cittadini che hanno pagato un servizio ancora non attivo. Sono circa 70.000 le utenze non allacciate al depuratore che tra il 2003 e il 2008 hanno pagato per un servizio che non hanno mai ricevuto. Siamo di fronte a una sentenza del 2008 e i cittadini che ancora non hanno chiesto rimborso saranno circa 70.000 e avranno diritto al rimborso poiché la Corte Costituzionale ha stabilito che chi non era allacciato alla depurazione non doveva niente. Quindi noi siamo pronti a restituirlo nel rispetto delle regole. Oltre 3 milioni di euro di rimborso previsti. Ottenerlo però non è automatico, ma occorrerà seguire un iter ben preciso, consultabile anche sul sito di Publiacqua. Purtroppo le regole ci impongono che il cittadino chieda con una domanda a noi la restituzione. Faremo di tutto per agevolarlo, i nostri call center sono a disposizione dei cittadini. C'è una scadenza? La scadenza temporale è stata stabilita nel settembre del 2014, quindi bisogna affrettarsi.